Scuravi poi Aguilera, Aguilera per Ruotolo c'è la possibilità ancora di creare un pericolo forse cerca il passaggio filtrante Gol! Pallone alle spalle di Viti, grandissimo, 44esimo e Scuravi mette il pallone non vi dico la festa indescrivibile, impazzito anche tutta la panchina che va ad abbracciare volano bandiere, volano pugni alzati al cielo, la V ed ecco sul cross il pallone collocato imparabilmente alle spalle di Viti come al solito non ne indovinò una perché avevo detto che era un momento difficile per il Genova e soprattutto lo viedo sembrava accarezzare e realizzare il sogno di passare il turno l'ho dato una gufata tremenda Grazie!